Prima del ritorno della cometa di Halley nel 2062, tra 50 anni, ci saranno diverse scoperte che adesso sembrano impossibili ma che saranno fatte e si riveleranno corrette, come spiegato nel libro, proprio sul futuro, spiegato ai ragazzi. La prima è la scoperta di forme di vita extraterrestre. Io sono sicuro che entro 50 anni troveremo una nuova Terra e che su questa nuova Terra in qualche modo troveremo qualche forma di vita elementare, perché a quel punto avremo scoperto migliaia e migliaia di pianeti simili alla Terra e questo è il primo punto. L'altro, se devo scegliere, è l'interfaccia tra la mente dell'uomo e il computer. non sapremo chi sarà più bravo, i computer già battono l'uomo giocando a scacchi, quindi chi lo sa come andrà a finire, ma se riusciamo a unire i due, a fare un'interfaccia tra i due, siamo sicuri di avere una potenza di pensiero oggi inimmaginabile. Grazie.